Firenze 76esima mostra dell'artigianato tra i tanti stand anche uno spazio che c'è particolarmente caro Temporary Store un vero e proprio salotto per le degustazioni Un salto di più o meno 60 anni, quello che vediamo è lo spaccio numero 2, quindi dopoguerra e questo che invece vediamo è l'ultimo nato Temporary Store, un salto di 60 anni che poi detto tra noi non è che poi si veda tanto Certo, siamo proprio partiti da questo, dalle nostre origini, abbiamo ritrovato questa foto di uno spaccio del dopoguerra a Scandicce E da questa foto ci siamo ispirati per questa innovazione che abbiamo introdotto in cooperativa che si parla in termini moderni di Temporary Store Che cos'è? È un momento dove abbiamo cercato di riassumere nel caso specifico tutta l'eccellenza neogastronomica che esprime il nostro marchio Fiorfiore Coppa L'origine di questa idea in realtà come il marketing ci dovrebbe sempre insegnare è quella di soddisfare le esigenze dei nostri soci consumatori E infatti l'idea è nata proprio dal fatto che sempre la cooperativa è presente negli eventi enogastronomici e culturali del nostro territorio Con piccoli stand dove si è sempre svolto assaggio e degustazione Alla fine il consumatore, il socio nostro ci chiede sempre ma questo prodotto ce lo fate comprare oppure no? Ci tocca andare nel negozio E da questo abbiamo pensato appunto di far evolvere questo concetto di stand, di presenza nostra culturale nei nostri territori In una forma appunto di a tutti gli effetti di negozio e questo è a tutti gli effetti un negozio Dovunque uno va trova spiegato il prodotto, trova spiegata la qualità, l'origine E la cosa ancora poi più interessante speriamo che il consumatore sarà la possibilità poi di incontrare i fornitori Quindi ogni giorno verrà fatta una serie di degustazioni dove sarà presente tanti fornitori dei nostri prodotti Salumi, formaggio, ovviamente il fiore all'occhiello E faranno provare questi prodotti a tutte le persone che verranno a visitarci qui alla mostra dell'artigianato Allora intanto complimenti per l'allestimento che è davvero notevole Ma è anche interessante la collocazione all'interno della mostra dell'artigianato Diciamo la collocazione non si poteva trovare una collocazione meglio di questa Sia per il contesto più generale La cooperativa sempre cerca di essere vicino agli eventi di eccellenza che esprime il territorio E questo sicuramente è un'occasione eccezionale E si integra il concetto che non ha voluto portare avanti di valorizzazione dell'artigianato E dell'eccellenza appunto sia nell'ambito artigianale che nell'ambito gastronomico del nostro territorio Abbiamo parlato dello spazio questo Temporary Store Adesso però parliamo del prodotto che è ospitato all'interno di questo spazio Il prodotto appunto è la linea diciamo dei prodotti Coop così chiamata Fiorfiore Che vogliono esprimere appunto le eccellenze della produzione a marchio Coop Diciamo il prodotto a marchio è un po' per sé deve mostrare il meglio della filosofia commerciale di Coop Il rapporto qualità prezzo, il rapporto corretto con l'ambiente, con chi ci lavora Ecco tutti questi elementi sono presenti nel prodotto Fiorfiore E in più si cerca anche di riscoprire le qualità, l'artigianalità che ci sono all'interno della ricca produzione enogastronomica italiana Chiaramente qui ci sono appunto prodotti che vengono un po' da tutta l'Italia E poi ci sono chiaramente anche alcune eccellenze del nostro territorio Questa è una scelta che ha fatto Coop ormai da qualche anno E devo dire quello che notiamo nei risultati di vendita è molto apprezzata dai nostri soci e dai nostri clienti In effetti si riesce a esprimere appunto le eccellenze sempre con la linea e prezzi Con la filosofia della convenienza che è propria della nostra politica commerciale Quindi un fiorfiore all'occhiello si può quasi dire Direi proprio di sì, qui abbiamo appunto prodotti che effettivamente normalmente li troviamo solo magari nelle boutique gastronomiche Invece non si possono trovare, qui chiaramente sono raggruppati e chiaramente vengono esaltati anche dall'ambiente Ma noi li possiamo ritrovare, i nostri soci e i clienti li possono ritrovare nei nostri supermercati E ripeto, con la stessa filosofia di vendita abbiamo complessivamente nei nostri punti vendita Abbiamo scoperto il Temporary Store, abbiamo scoperto i prodotti ospitati all'interno del Temporary Store Scopriamo anche chi lavora all'interno del Temporary Store Mi hanno suggerito l'eccellenza dei nostri lavoratori Quindi tutto mi fa pensare che tu non sei una hostess così presa a casa No, lavoro nel negozio di Gavinana e faccio parte dei generi vari Mi è stata offerta questa bellissima esperienza che porterò sempre veramente nel cuore Perché è da provare, costruire tutto questo è stato veramente bello Qui ci vuole un occhio un po' particolare perché i prodotti sono particolari È l'eccellenza della Cop, questo fiorfiore, quindi ha saputo gestire Che poi detto da una donna che di gusto se ne intende, hanno anche una bella veste grafica Sì, sono belli esteriormente, si presentano molto bene Ci vuole anche la bella presenza dal punto di vista Va bene, grazie, allora è tutto, è tutto per questa settimana